Dopo nove anni dalla chiusura di Galassia Gutenberg, Napoli torna ad avere un suo salone del libro e dell'editoria. Napoli, città libro, promosso dal comitato Liberarte degli editori Diego Guida, Rosario Bianco e Alessandro Polidoro, è stato inaugurato il 24 maggio nei prestigiosi spazi del complesso di San Domenico Maggiore. Siamo nel cuore della storia e del pensiero, è una pagina credo molto bella oggi per Napoli e per il Mezzogiorno, il segno di una vitalità culturale, di una rinascita sempre più visibile che ha segnato la città in questi ultimi anni e qui siamo nel cuore di Napoli, anzi nel cuore filosofico di Napoli, perché questo complesso monumentale, che è uno degli spazi culturali del comune, sono stati concepiti e scritti libri che appartengono alla cultura universale. Cento espositori, case editrici piccole e medie, 300 eventi di approfondimento su argomenti di storia, letteratura, teatro, musica, magia, fumetto. Sono previsti anche laboratori didattici per bambini. Napoli, città libro, ha fra gli altri il patrocinio dell'Associazione Italiana Editori ed è stata realizzata in collaborazione col comune di Napoli e con la regione Campania. È bene che questa immagine rilanci l'identità, oltre che l'immagine del sud, l'immagine di Napoli che è una grande realtà editoriale. Abbiamo conosciuto anche qui grandi sofferenze negli anni passati. Ridiffondere la cultura del libro, la cultura dell'approfondimento, significa far maturare uno spirito critico, cosa indispensabile, ripeto, mai come oggi nel nostro paese. Napoli, città libro, l'abbiamo voluto fortemente insieme agli altri organizzatori, qua in questa struttura che già da qualche anno abbiamo rilanciato, che è il complesso di San Domenico Maggiore, direi luogo assolutamente ideale per un rilancio di un salone del libro dopo tanti anni di chiusura dal Galassa e Gutenberg. In Napoli sempre di più si dimostra capitale della cultura. Questa è l'arma con cui da anni ci stiamo riscattando. È un motivo per noi di orgoglio che sempre di più Napoli viene ricercata proprio per la cultura, che si abbina al turismo ma anche alla ripresa dell'economia e quindi è un ulteriore tassello della voglia che c'è di scegliere Napoli. Quindi gratitudine per tutti quelli che hanno reso possibile un evento di questo tipo. Il Salone del Libro e dell'Editoria potrà essere visitato fino a domenica 27 maggio. Il programma completo su www.napolicittalibro.it